Musica Buonasera, benvenuti al quotidiano appuntamento con il Fatto del Giorno. Ospiti di oggi sono Alessandro Colucci, consigliere regionale del Popolo della Libertà, benvenuto, e Fabio Pizzul, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie a voi per essere qui con noi, vi ricordo che oggi parleremo di Piano Rom, non si fermano le polemiche, per partecipare telefonicamente potete comporre lo 0248010921 oppure scrivere al Fatto del Giorno chiocciolatelenova.it. Entriamo subito nel merito delle questioni. Perché? Perché l'opposizione in centro-destra, Fabio, accusa la giunta Pisapia di essere un po' troppo morbida, chiamiamolo così, nei confronti dei Rom. Perché? Perché verrà istituito un centro di emergenza in via Cesaro Lombroso e poi verrà istituito o regolarizzato il campo di via Martirano, come? Spendendo 700 mila euro, con delle abitazioni, dei trilocali di 36 metri quadrati l'uno, destinati a famiglie di 4 persone. Soldi buttati, dice il centro-destra. Sono soldi che però, dobbiamo dire la verità, vengono dati dal governo e finalizzati a questo investimento. Non puoi spenderli per i tram, i parcheggi o i bambini poveri milanesi. Sono soldi per il piano Rom, sono soldi che devono essere anche impiegati in una maniera lungimirante. Perché uno può benissimo impiegarli per giocare a guardie ladri con i Rom per la città, sgomberandoli da una parte, risgomberandoli dall'altra. Però questo porta a spendere quei quattrini senza tentare di dare una soluzione in termini di programmazione di medio e lungo periodo. Certo, quello di Rom è un problema annoso, è un problema che va comunque affrontato. E io devo dire che le politiche messe in atto, soprattutto dall'assessorato alla sicurezza dell'assessore Marco Granelli, non mi sembrano politiche lassive o morbide, ma sono politiche che tentano concretamente di andare a offrire delle risposte e non semplicemente sgomberare senza dare poi delle alternative concrete. Ecco, Colucci, la Moratti, qui è una questione poi di sensibilità e di politiche del territorio, della sicurezza, la Moratti finalizzò questi finanziamenti a sgomberi e allontanamenti, come pagando i Rom, infatti poi venne anche criticata dai suoi stessi alleati, pagando i Rom e dicendogli se voi ve ne andate vi do tot euro. Questo era il progetto di rimpatrio che c'è stato. Il progetto di rimpatrio, il centrosinistra che ha una sensibilità diversa rispetto al problema, dice no, teniamoli qui, li integriamo così magari viene fuori qualcosa di positivo. Io non parlerei di sensibilità diversa rispetto a tutte quelle realtà di ogni nazione e religione che devono avere il giusto rispetto. Io parlerei di un problema sicurezza in termini generali. Oramai è abbastanza evidente che la sicurezza percepita nella città di Milano da parte dei cittadini è pesantemente diminuita, si è appesantita. Ci sono problemi di accattonaggio, ci sono problemi di scippo, le donne non si sentono più tranquille soprattutto in certi orari della sera e oggi anche in certi orari del giorno. E in tutto questo ovviamente il tema degli insediamenti è un tema che si inserisce perfettamente perché c'è stata una linea morbida e io dico troppo morbida da parte dell'amministrazione guidata da Pisapia e ci ritroviamo oggi da una presenza di 1500 nomadi che erano arrivati a questo coefficiente numerico dopo un intervento forte dell'amministrazione Moratti che annoverava più o meno 3000 nomadi. Oggi siamo ritornati alle soglie di oltre 3000 nomadi, quindi oltre quei livelli c'era stato un intervento della stessa amministrazione indipendentemente se era governata dalla Moratti o da Pisapia comunque ci fu un rimpatrio. Oggi ce li ritroviamo qua. Allora visto che l'amministrazione spese risorse è necessario che chi ha avuto il rimpatrio in base anche a un compenso economico ha avuto già il diritto di tornare nel proprio paese e non può pensare di ritornare a occupare i stessi spazi altrimenti sono soldi buttati via. Però vorrei precisare una cosa, 700 mila euro sono soldi che l'amministrazione Pisapia vuole utilizzare in un modo, secondo me potrebbero essere utilizzati in modo diverso per riuscire a garantire una presenza dei nomadi in città. In totale i soldi del ministero saranno 5 milioni e lì c'è più discrezionalità da parte dell'amministrazione utilizzarli in questa fattispecie di emergenza sociale rispetto ad altri. Allora è vero che 700 sono per quella finalità, ma dei 5 milioni in generale c'è una discrezionalità. Cioè quindi c'è una discrezionalità alla fine, basta che però siano destinati a questo tipo... Alle politiche per Roma, certo. Non dico problema, questione, ecco questa tema, su questa tematica. Alle politiche per Roma il problema è risolvere la questione o tentare di risolverla in maniera stabile. Io ribadisco, la politica usata precedentemente, legittima per carità perché era all'interno di quelle che erano le competenze, di quelle che erano i criteri per l'utilizzo di quei fondi, però di fatto non ha risolto il problema. I continui sgomberi, guardate, non che non ci siano anche adesso gli sgomberi, perché ci sono... Ci sono, ci sono e tra l'altro tendono a essere programmati e preparati con delle soluzioni che evitino a questi Roma di finire di nuovo in giro per la città ad occupare altri spazi. Chiaro, il progetto è un po' più a lungo respiro, perché è più semplice sgomberare dicendo andatevene, non vi vogliamo più tra i piedi. Sta di fatto però che questi sono rimasti in giro, che questi occupavano nuovi spazi di una città che tra l'altro da questo punto di vista offre tantissime possibilità a chi vuole occupare spazi. Se guardiamo dall'alto, visto che mandavate in onda prima alcuni rilievi proprio dall'alto... Sì, possiamo vedere le immagini di via Martirano. Ecco, ci sono in tutta la fascia, soprattutto sud della città, enormi spazi che possono essere occupati in maniera abusiva. Bisogna regolamentare il più possibile e dare la possibilità a coloro che hanno intenzione di rimanere sul territorio senza delinquere e senza creare allarme sociale, di farlo. Perché non tutti i Rom sono brave persone, non tutti i Rom sono delinquenti. Bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio tra una giusta e sacrosanta repressione e una possibilità di cammini di integrazione che tra l'altro abbiamo visto essere positivi all'interno delle scuole, all'interno del reinserimento anche lavorativo di alcune persone. Bisogna, chiaro, ammettere che è un problema annoso, che non è facile risolvere con la bacchetta magica, ma che va affrontato con delle politiche e non semplicemente nell'ottica dell'emergenza. Allora, nel 2008 i Rom-Censiti individuati dalla Prefettura erano 2925, poi c'è stata la giunta Moratti che è entrata nel 2006, ha avuto due anni di tempo, tre anni, sarebbero scesi a 1500 unità, come diceva Colucci. Adesso, dal 2010 ad oggi, tutto sembra tornato a livelli di emergenza. Questo lo sostiene Colucci, questo lo sostiene il centrodestra, sentiamo Pierfrancesco Maiorino, però Pierfrancesco Maiorino l'abbiamo interpellato proprio su questo tema e sentiamo cosa ci ha detto, perché con i numeri non si scherza. No, assolutamente, questa è una ricostruzione ridicola, non c'è nessun incremento, si può dire che siamo sempre su quelle presenze e sono tornati probabilmente alcuni Rom che hanno preso i soldi dalla giunta Moratti per andare via dal campo di Via Tibugnano, soldi dei milanesi, credo in alcuni casi che io non avrei mai dato loro, sono state fatte scelte scellerate allora e adesso stiamo tentando di gestire la situazione con anche la necessaria fermezza, nel senso che io credo che le illegalità non vadano mai tollerate. Le casette del campo martirano che sta contestando l'opposizione sono quello che nel 2007 la giunta Moratti ha deliberato di fare, si attuano oggi per tempi burocratici, sono una scelta della giunta Moratti e il centrodestra dovrebbe prendersela con se stesso innanzitutto. La cura Pisapia sta avendo i suoi effetti, siamo appunto al doppio di Rom rispetto a quanto avveniva con la fine della giunta Moratti, ricordiamo questo, perché poi tante sono le accuse, i numeri, le polemiche, il dato è oggettivo, ogni milanese che prende la macchina può andare in giro, vedere al semaforo quanti questi anti ci sono, dunque il pericolo non è tanto la presenza o meno la presenza, ma il fatto che ci sono dei racket oggettivi con delle persone che sono vittime di questi racket e un'illegalità diffusa. La questione di ortomercato? La questione di ortomercato che abbiamo denunciato come Lega è stata evidentemente un'altra delle tanti errori che Pisapia sta compiendo su questo tema. È chiaro che se continui a promuovere la benevolenza, adesso ci saranno 600 mila euro investiti per comprare 20 casette e i loro arredamenti, voglio sapere quanti milanesi hanno questa fortuna cioè avere dedicati a loro stessi così tanti soldi dal comune e da Giuliano Pisapia. 0248010921, pronto? Buonasera Buonasera, come si chiama signora? Maria Rosaria Da dove telefona? Da Milano Prego Io volevo sapere se è vera questa storia che danno una villetta più 30 mila euro ai Roma Grazie signora, no, danno solo una villetta nel senso solo Poi villetta Danno in pratica, vi dico che cosa c'è Allora, sono in via Martirano 20 villette ammobiliate con un soggiorno con angolo cultura, tavolo e divano con tessuto sfoderabile e con letto estensibile, due camere da letto con armadio, pensile e appendiabili Poi ci saranno delle tende oscuranti, le zanzariere, ingresso con verde, locale caldaia e poi una fila di posti auto e un ingresso con giardino Ripeto, però ogni abitazione 36 metri quadrati, sono in tutto 5300 metri quadrati Quindi è una cosa, non sono ville, sì ho capito Non sono le ville che abbiamo visto ieri sera a Roma Come oggi hanno detto quelli del centro-destra nazionale, di cui prima abbiamo visto le immagini, hanno fatto una manifestazione Ha detto ai fratelli d'Italia, ai milanesi aumentate l'IMU No, ma non solo A loro danno le villette Forse è solo questo il problema Poi lasciamo anche Fabio Pippo No, 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 prego Alessandro Prego, prego No, la questione è che non è solo il problema dell'IMU che facciamo pagare agli italiani Qua c'è un problema, prima di tutto, di vera e propria legalità Perché ci sono occupazioni di case popolari Che se dovessero essere fatte da italiani che hanno veramente bisogno Passerebbero probabilmente dei guai maggiori di quanti possono passare Quelli che arrivano da nazionalità particolari Con difficile individuazione di dove è la loro fissa dimora Allora, il messaggio che noi stiamo dando a tanti italiani che oggi sono in grandissima difficoltà È che per avere una casa magari piccola, per carità, 36 metri quadrati Con il verde all'ingresso e con tutti quegli arredi che l'ha descritto Che è meglio farsi una capannina A fianco ai nomadi In modo tale che magari potrebbero avere la fortuna di beneficiare di buoni provvedimenti Come questi che vanno a stranieri Che probabilmente non sempre fanno una vita molto chiara Agli occhi di molti E poi si ritrovano anche a essere beneficiati di strumenti importanti Allora, questa è anche la grande responsabilità che la politica e le istituzioni devono avere Io credo che ci sono tanti italiani che sono rimasti senza lavoro Sfrattati Che una casa oggi non gli viene neanche data Perché secondo le regole esistenti Se non hai un lavoro neanche l'alerti può dare la casa Allora, noi prima di pensare a tutto il resto Pensiamo anche a questi italiani Cosa fa il Comune di Milano per queste problematiche? Mi sembra che si stia dando prima risposta ad alcuni Garantendo diritti E non garantendone ad altri Che forse probabilmente ne hanno più bisogno E più ragione di averne Fabio Pizzo Sì, dicevamo all'inizio Lo diceva lo stesso Alessandro Colucci Che i fondi utilizzati per questa operazione Delle cosiddette villette ai Rom A parte che provengono Dal 2008 Dal Ministro dell'Interno Maroni Il governo Berlusconi Guardava anche Napoli e Roma Piano Rom Maroni Deliberato sotto la giunta Moratti E per le lungaggini Che non sono tutte dovute Non sono tutte dovute Alla responsabilità diretta Della sindaco Moratti Ma per un congelamento dei fondi Non trasferiti da Roma Però arrivano oggi a compimento Quindi non si può dire che questo sia Un'alzata di ingegno da parte di Pisapino Non si può neanche dire che quei soldi Potevano essere utilizzati altrimenti Perché erano vincolati a una politica di questo tipo Quanto poi al discorso delle case Dell'Aler occupate Non assegnabili perché troppo piccole O fatiscenti Ecco lì è necessario Avere sicuramente Un intervento urgente Nell'ottica di una sorta di piano casa Che non deve prevedere Costruzioni di nuove abitazioni O quant'altro Ma un intervento sul patrimonio edilizio esistente Un intervento all'insieme della legalità E su questo sono d'accordo con Colucci Per quanto riguarda coloro che sono Indebitamente occupanti di quelle case Con attorno un racket di assegnazioni alloggi Con un mercato parallelo Che va a foraggiare l'illegalità E va a danneggiare gli occupanti E coloro che sono senza casa Però la questione di Roma è una questione diversa Perché ci sono dei fondi da assegnare ad hoc E c'è una situazione da gestire In termini di sostenibilità E di possibilità di risolvere un problema E non semplicemente rimandarlo A qualche altra parte della città Sentiamo un'altra persona al telefono Pronto? È pronto? Sì buonasera signora Come si chiama? Da dove telefona? Sono Antonia da Milano Sonia prego Ma non sono amato sindaco Pisa Pia Non si vergogna a fare questo C'è gente che muore di fame italiana Innanzitutto i Rom Non lasciano tanta di quella sporcizia E in più vanno anche a rubare nelle case Perché io ce li ho qui in Viale Berbera Via? Ed è uno schifo quello che lasciano Dovrebbe solo vergognarsi Di dare questi soldi e queste case A gente che non è neanche italiana Grazie E per solo vergognarsi di fare questo Grazie Fabio una replica breve Che poi avremo la pubblicità Certo Adora Se uno è in difficoltà e muore di fame Va soccorso e va sostenuto A prescindere dal fatto che sia uno Che muore di fame lamentandosi in italiano Piuttosto che lamentandosi in una lingua straniera Dopodiché sul versante Della possibilità di creare delle condizioni Perché gli occupanti Un'area Che siano essi Rom o non Rom Non la lasciano in condizioni pietose Su questo ribadisco Ci sono vari e continui interventi Da parte dell'attuale amministrazione comunale Che ha sgomberato Che ha messo in sicurezza delle aree E che non è vero che sta facendo meno sgomberi Sta facendo con meno clamore E li sta facendo tentando di dare una soluzione Tale per cui questi non siano in giro per la città A vagare e a trovare altri spazi da occupare 18.17 Un attimo di pausa C'è la pubblicità Rientriamo con Alessandro Colucci E Fabio Pizzul Subito dopo Il fatto del giorno con Alessandro Colucci Del PDL E Fabio Pizzul Del PD Tutti e due sono consiglieri regionali Che sono stati pure rieletti Quindi complimenti Nel nuovo consiglio E non siamo stati involti Perché solo il 20% è stato confermato Il 80% sono consiglieri regionali Vuol dire che avete lavorato bene Complimenti Perché non è facile farsi rileggere Senza dubbio Per ottenere la fiducia Senza dubbio Senza dubbio Torniamo ai Rom Però in chiave italiana Perché poi alla fine si parla di Rom Che vengono spesso a torto a ragione Non sta a me a dirlo strumentalizzati Dalla maggioranza Dall'opposizione Perché poi se senti la gente E senti le giuttificazioni E le riflessioni di Colucci e di Pizzul Non si può dar torto a uno o all'altro Dite tutte cose giuste Poi è una questione di orientamento Di sensibilità La chiamo io sensibilità Però i Rom e la casa Ecco la signora di prima diceva La casa, gli italiani non ce l'hanno Prima in pubblicità Lei ha ricordato il caso emblematico Di una signora che non può pagare l'affitto Perché non ha un reddito E l'Aller non le può dare una casa E allora bisognerebbe rivedere anche quelle Questa è una modernizzazione Tutti gli enti Io credo debbano mettersi Garantirsi In una mano sulla coscienza E modernizzare e attualizzare Numerose norme Che ci sono al loro interno Senza dubbio Il tema che ricordava Pizzul È importante Quello che ci sono dei soldi Delle risorse orientate A un ben preciso intervento Io dico Che invece di prevedere case Si poteva prevedere altro L'amministrazione Moratti Scelse L'accompagnamento Oltre i confini italiani Quindi il rimpatrio E utilizzare le risorse In questo modo La visione dell'amministrazione Pisa Pia È un'altra Ma io credo che Su alcuni temi importanti Che riguardano soprattutto Gli italiani È bene intervenire Attraverso nuove regole Ad esempio L'istituto Aller Che amministra La residenza Popolare Di regione Lombardia Potrebbe In una nuova riforma Che Deve essere valata Entro la fine dell'anno Tenere in forte In considerazione Il fatto che ci sono Nuove povertà Nuove fragilità Vuol dire che ci ritroviamo Purtroppo Tanti italiani Senza lavoro Contestualmente Senza lavoro Non possono pagare affitti Si trovano sfrattati E l'Aler Magari in assenza di lavoro Non consente Di avere un'abitazione Su questo è necessario intervenire Orientando però Come dicevamo In pausa pubblicitare Anche con Il collega Fabio Pizzul Sul fatto che L'attività Che queste persone Svolgono Nella quotidianità Non può essere Di certo Quello di delinquere Deve essere quello Orientato a Una vita Di serietà E di legalità La signora Prima è intervenuta Dicendo Ah ma diamo case A queste persone Che poi Nella maggior parte Dei casi Rubano Nella maggior parte Dei casi Delinquono Magari non è sempre vero Ma questa è la percezione Che hanno Le persone E allora Quando poi leggiamo Sui giornali Che oltre ai furti In casa C'è il furto del rame Di servizio Dei treni Perché Purtroppo ci sono Questi furti notturni Allora Dobbiamo veramente I tombini Abbiamo visto che c'è stato Un furto di tombini In città Spaventoso Allora deve essere Questo l'obiettivo Aiutiamo chi ha bisogno Però Chi è rispettoso Di una sana E regolare Convivenza civile Ecco tenete conto del fatto Che Il programma Previsto Nell'ottica Della collocazione Di questi Rom All'interno Delle Cosiddette villette È finalizzato Proprio anche Un percorso Di accompagnamento Quindi non è che Rimangono lì A prescindere Non è che si dice Stai lì e fai quello che vuoi Ma Sono percorsi Di accompagnamento E di responsabilizzazione Qualcuno potrà sorridere Come responsabilizzare un Rom Guardate che ci sono Tanti percorsi Che in questi anni Sono andati avanti Soprattutto E' il caso di dirlo Puntando sulle donne E sui bambini Perché il problema Spesso e volentieri Per gli accampamenti Rom Sono gli uomini Che Fanno molta più fatica Di integrarsi E Però Ci sono tanti Dei segnali positivi E si punta appunto Su percorsi Per chi vuole Stare a determinate regole Perché possa In qualche maniera Entrare in un circuito Non più dell'illegalità Ma della legalità E questo è il percorso Un percorso difficile Un percorso stretto Ma secondo me Da percorrere Finché si può Fini in fondo Pronto Pronto Buongiorno Buongiorno Come si chiama? Antonio Sì Antonio Ci dica Io vorrei Fare una domanda A Dottor Piccio Non mi ricordo Chi era Quell'americano Magnata americana Che aveva detto Non devi mai fare l'emosina Perché tu Il problema della povertà Non la risolvi Ma diventi povero Anche te Allora a questo punto qua Noi non dobbiamo Far diventare Il paese Del bengode L'Italia Perché noi Ne stiamo pagando Le conseguenze Ma guardi L'uomo della strada Sta vivendo male Io vorrei che voi Politici Vi rendete conto Qui Non possiamo lasciare Appena appena La porta Con una sola serratura Che subito Ci sono dentro E ne paghiamo Delle forti conseguenze Lei Dice Le case Dell'Aler E robe varie Ma poi dopo Chi paga l'affitto Chi paga la manutenzione Ma queste cose qua Cioè Bisogna avere Anche il pugno duro Da queste persone qua Bisogna pretendere La correttezza Bisogna pretendere Che non vivono In quella maniera Che stanno vivendo Ogni giorno Io li vedo Abbiamo capito Grazie La devo interrompere Perché siamo quasi in chiusura Così diamo la possibilità Di replicare a Fabio Antonio La ringraziamo Di aver chiamato Perché siamo veramente in chiusura Condivido con toni Leggermente diversi Però il ragionamento Che faceva Antonio Quando parla di legalità E quello che dicevamo prima Legalità Bisogna dare Delle opportunità Per entrare in circuiti Di legalità Se noi ci limitiamo A perseguire A inseguire E a reprimere Il rischio è che si crei Maggior propensione Ancora alla delinquenza Poi dopo di che Se si dà questa possibilità E continuano a delinquere A casa o in caccia Per dire Molte polemiche Sono state fatte Nei mesi scorsi Negli anni scorsi Con Don Virginio Colmegna Casa della Carità Riguardo alla gestione di Roma Guardate che Il più duro Nei confronti di coloro Che erano stati aiutati E poi non hanno Rispettato il contratto Che era stato siglato Con noi È stato proprio Don Colmegna Che non ha Ha guardato in faccia Nessuno E ha anche Ricacciato via Tanti e tanti Rom Che aveva aiutato Altri però Si sono incamminati Nei percorsi virtuosi È una scommessa Colucci E poi magari c'è un'altra telefonata Perché mancano poco Ma spero Nelle parole Dell'amico Fabio Pizzul Che la linea morbida Che ha visto L'amministrazione Pisapia Si trasformi Nella linea Della giusta Fermezza Che un'amministrazione Deve avere Nel momento In cui stabilisce Delle regole E spero anche Che ci sia L'evitare Il pregiudizio La necessità Della discontinuità Tanto per farla Io registro In modo molto negativo Il fatto che L'amministrazione Pisapia Abbia deciso Di non mantenere più I militari in città Era una presenza Sicuramente Con dei limiti Rispetto al potere Potevano esercitare Però dava Un clima diverso Dava anche la possibilità Negli stranieri In zona stazione centrale Nelle parti sensibili Anche una certa tranquillità In quelle persone Che arrivano da lontano E che certe volte Oggi Si sentono scrivere Dal proprio consolato Come è capitato A parte del consolato americano Guardate State attenti Se venite a Milano Una città pericolosa Allora Cerchiamo di fare le scelte Per raggiungere l'obiettivo Non perché Per la discontinuità Rispetto a una scelta intelligente Bisogna per forza Cancellare un provvedimento intelligente Spettatore Perché c'è 30 secondi Poi dobbiamo andare Il sommario del TGN Sera Pronto? Sì pronto Buonasera Ci dica Salve Sono Silvano Del Veruno Sì E qui lo dico questo Che bisogna finirle Di essere Dei buonisti Con questa gente Perché non lo meritano Perché questa gente qua Io guardi Sono 30 anni Che vivo sulla strada Non che vivo Lavoro sulla strada Diciamo Perché sono Un piccolo Autotrasportatore Specialmente Specialmente Nei supermercati Io dico Nel supermercati Ecco Cioè io Allora Lavoro col furgone Noi tanto Passo via Nei supermercati Vedo questa gente qua Che sono 20 anni Che sono lì Ma di questa gente Ce ne sono lì 20, 30, 40 E sono lì seduti Tutto il giorno Queste gente qua Sono qua Perché Perché sono mantenuti Io non so Se è la Caritas Non so Non so se c'è Qualche associazione Che cerca di difendere Questa gente qua Con delle parole 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 Ma questa gente Non merda niente Grazie Silvano L'unica cosa Che sanno fare È rubare Grazie Abbiamo capito Il senso della telefonata Ma io adesso Le devo interrompere Perché c'è il sommario Di Adriana Santa Croce Che andrà in onda Nel TGN della sera Per vedere gli argomenti Principali Del nostro notiziario Vediamo Mancano 400 milioni Per il bilancio Del comune di Milano E l'assessore Balzani Ammette che nulla Sarà come prima Per coprire il buco Si pensa a tagli Ma anche ad aumenti Fanno sempre discutere Le domeniche a spasso Soprattutto ora In tempo di crisi Ma il sondaggio Commissionato da Palazzo Marino Le promuove Tra i milanesi Sempre gradita Ancora anche aria C Sindacati divisi Questa mattina All'assemblea Dell'ospedale San Raffaele Intanto sono arrivate Le prime 40 lettere Dei 244 Licenziamenti previsti E la settimana Appena iniziata Si preannuncia Davvero calda Dopo lo sblocco Dei 5 milioni Del piano Maroni Per i rom Milanesi Maggioranze e opposizione Sono sempre più efferricorti Il centrodestra Parla di situazione Fuori controllo Mentre la giunta Rivendica il lavoro annunciato 18.30 Precise Siamo in chiusura Ringraziamo Alessandro Colucci Consiglio regionale del PDL Fabio Pizzu Consiglio regionale del PD Che domani Saranno insieme Una commissione bilancio Perché domani Si riuniscono le commissioni Per eleggere i presidenti Le commissioni permanente Per eleggere i presidenti E cominciare la loro attività Perché dovete cominciare a Lavorare Stiamo già lavorando Stiamo già lavorando Che caos Lavoreremo di più Ancora più intensamente Grazie a voi Per essere stati qui Ovviamente era una battuta Ci vediamo dopo Con l'incontro con la CISL Grazie Buona serata Questo programma Vi è stato offerto Da Famiglia Cristiana Il settimanale della famiglia